Io e te abbiamo un canale YouTube, ma non siamo videomaker, fare video non è il nostro lavoro, stiamo imparando a farlo al meglio possibile, ma non sempre, i risultati sono quelli che ci aspettiamo. Oggi ti svelo 5 trucchi semplicissimi adatti anche a chi ha iniziato da poco, che possono migliorare istantaneamente la qualità dei tuoi video. Mentre iniziamo scrivimi nei commenti qual è secondo te il problema principale dei tuoi video, quale aspetto vorresti correggere per primo. La base dei tuoi video è l'inquadratura, ovvero come disponi gli elementi importanti all'interno del video. Se ci sei solo tu che parli, non riprenderti troppo lontano, cerca di avvicinarti un po' di più alla camera per creare un contatto più stretto con chi ti guarda. Se il tuo sfondo è uniforme puoi posizionarti centrale nell'inquadratura, se invece vuoi mostrare degli elementi importanti e di arredo, come nel mio caso, puoi metterti un po' più laterale. Non lasciare troppo spazio vuoto sopra la tua testa, cerca di riempire il più possibile l'inquadratura in verticale con la tua figura. Questi piccoli accorgimenti ti permetteranno di far focalizzare lo sguardo su di te, viceversa un'inquadratura dispersiva rischia di farti perdere l'attenzione delle persone che ti guardano. Se invece non riprendi te stesso, ma magari degli oggetti, come degli ingredienti per una ricetta o dei prodotti da recensire, assicurati che siano protagonisti della scena, che abbiano un colore con grande contrasto rispetto al ripiano su cui poggiano e assicurati che su questo ripiano ci sia pulizia, ordine e eleganza. Togli tutti gli elementi superflui e lascia solo se ti piace qualche elemento decorativo in tema con il video. Per chi fa video come i miei in cui ci sono solo io che parlo a una telecamera per diversi minuti, il rischio è quello di annoiare l'utente con un'unica immagine. Le persone sono distratte da tantissime cose, le notifiche di whatsapp, i messaggini, i video consigliati da youtube accanto al nostro, è un attimo perdere la loro attenzione e farli andare via. Per risolvere questa situazione i b-roll sono spesso provvidenziali. I b-roll sono quelle riprese aggiuntive che inserisci sopra al tuo video a commento di quello che stai dicendo, proprio come quello che stai vedendo in questo momento. Quando prepari il testo o la scaletta del tuo video prova già a immaginarti come potresti rendere visivamente quello che dici a voce e prova a capire se ci sono dei punti critici che si fa fatica a seguire, magari perché racconti situazioni complesse o inserisci tanti dati o citi degli ingredienti o dei prodotti poco conosciuti. In questi momenti è utile avere un supporto visivo che mostri quello che stai raccontando, rende più chiara l'esposizione, inoltre è un ottimo trucco per rendere più dinamico e movimentato il video e mantenere alta l'attenzione del pubblico. Ad esempio se parli di oggetti o prodotti ti consiglio sempre di girare anche delle clip di dettagli di quel prodotto, anche molto ravvicinate. Ti serviranno per coprire alcune parti del tuo video e hanno un altro beneficio, ovvero si vedono molto meglio per chi guarda il tuo video da cellulare. Potresti essere un fenomeno nel parlare a braccio e in questo caso ti invidierei tantissimo, ma in ogni caso ti consiglio sempre prima di girare di preparare uno script o perlomeno una scaletta di punti che intendi trattare nel tuo video. Scrivi un elenco di tutti gli argomenti che devi trattare in un ordine logico che sia facile da seguire, aggiungi tutti gli esempi che intendi fare e aggiungi tutti gli inviti all'azione che vuoi inserire nel tuo video, come ad esempio l'invito ad iscriversi o guardare un altro video sul tuo canale. E poi quando registri butta sempre un occhio a questa scaletta per seguirla. Io ad esempio ho sempre il mio foglio in mano mentre giro un video. Il problema se vai a braccio e improvvisi tutto è che è molto più facile divagare, avere incertezze nel parlato, ripetere più volte le stesse cose o magari ancora più grave dimenticare passaggi importanti. Invece se sai esattamente quello che devi dire puoi essere più incisivo, diretto, sintetico, non fai perdere tempo alle persone che ti guardano, che al contrario non ci penserebbero due volte ad abbandonare il tuo video. L'audio è metà del video o forse anche un po' di più. Un video di buona qualità con uno scarso audio si fa fatica a seguire, quindi accertati che la tua qualità audio sia buona, che si senta bene quello che dici con un buon volume e senza rumori di fondo. Per farlo ti consiglio di girare in un momento in cui sei da solo, magari senza altre persone in casa e senza rumori esterni come il rumore del traffico o i bambini che giocano al parco. Cerca di girare in una stanza che non sia vuota ma che abbia pareti attrezzate, tende, tappeti, librerie sono tutti elementi che eliminano un po' l'eco e rendono più pulito il suono della tua voce. Io ad esempio in questo momento mi trovo in una situazione particolare perché ho dovuto togliere le tende alle finestre, ho cercato di rimediare tenendo un cuscino qui di fronte a me. Inoltre se devi fare un investimento uno dei primi che potresti fare è appunto l'acquisto di un microfono perché spesso quelli integrati della tua videocamera o del tuo cellulare non sono sufficienti. Se vuoi dei consigli su attrezzatura economica puoi guardare questo video proprio su questo argomento. L'audio comprende anche la colonna sonora quindi scegli sempre un brano che possa accompagnare le tue parole, l'effetto sarà molto più professionale rispetto al parlare nel silenzio più assoluto. Se dopo aver girato il tuo video ti accorgi di non essere stato molto preciso nel parlato o che il ritmo è un po' lento ricordati che puoi rimediare a tantissimi errori con il montaggio. Dedica molto tempo a questo aspetto perché può fare la differenza. Taglia tutti i silenzi, le incertezze nel parlato, gli mmm e tutti i tempi morti. Riascoltandolo ti accorgerai che il ritmo del video cambia tantissimo solo togliendo i silenzi. Pulisci l'audio dai rumori di fondo se il tuo software ti permette di farlo. Aggiungi i b-roll come abbiamo già visto o altri elementi grafici. Una scritta, una foto, un'immagine aiutano a fissare i concetti, a sottolineare le parole chiave del tuo discorso e aiutano le persone a seguirti. E ricorda che trattenere a lungo le persone sul tuo video è uno degli obiettivi più importanti che dovresti porti. È un segnale super importante per YouTube. Per capire come fare segui questi consigli che ti do su come non far calare l'attenzione delle persone. Alla prossima!